Senatore Roberto Calderoli, oggi Walter Veltroni presenta questi 12 disegni di legge che vuole portare in Consiglio dei Ministri. Manca una parola, il Nord. Manca il Nord, manca il federalismo e poi mancano i contenuti, cioè non disegni di legge ma ancora una volta degli slogan abbastanza scontati. Credo che veramente il Partito Democratico, il suo programma e il suo candidato sia veramente una scatola vuota, talpì uno scatolone vuoto, ma sempre vuoto si parla. Senatore, lei ha proprio bollati solamente come spot, nulla da salvare allora? Quando si parla di progetti di legge vuol dire dare un articolato. Qui si sono visti dei titoli dove il concetto è meno tasse, più soldi, ma peccato che abbiamo fatto esattamente il contrario e lo stanno facendo in questo momento. Perché ormai conti alla mano hanno tartassato le famiglie con le tasse e non ha neanche risanato i conti pubblici perché oggi è certificato dalla quadrimestrale di cassa che viene bocciata dall'Europa. Senatore, in questi giorni Walter Veltroni nel Nord-Est, un bilancio di questo viaggio che definire disastroso è un eufemismo? Ma guarda, io penso che bisognerà andare a disinfestare le zone perché qualche possibilità di contaminazione c'è stata. Roma e il suo sindaco non c'entrano nulla col Nord, hanno dimostrato di volerli sempre trattare da sudditi e loro di voler fare ancora gli imperatori. Noi chiediamo la dignità di essere dei cittadini. Ecco, signor Torre, dopo il Veneto Veltroni arriva in Lombardia, qui i padani gli hanno già preparato un degno comitato d'accoglienza. No, visto che Bergamo è tappezzato di manifesti che non inneggiano propriamente a Veltroni e che lo invitano a rientrare nelle sue terre perché qui non abbiamo bisogno né di lui né di Roma né dei Romani. Quindi neanche un voto a Veltroni che no? Io credo che dall'imprenditore all'operaio, da qualunque genere di categoria, tanto e tanto male è stato fatto che non ci sarà più un voto per chi oggi è ancora al governo. Si tende a farlo dimenticare, ma oggi c'è il governo Prodi, quindi il presidente del partito di Veltroni. Un'ultima battuta, senatore. Oggi tutti i dati danno al 5% l'inflazione sulla spesa quotidiana. Questo forse sarà uno dei primi temi a cui mettere mano una volta il governo. Purtroppo il potere d'acquisto delle famiglie si è ridotto, si è ridotto in termini assoluti perché quando si aumentano le tasse si riducono le entrate delle famiglie. E per di più con un'inflazione reale, ben più concreta di quella programmata, il potere per comprare quello per cui vivere, o meglio sopravvivere oggi, è una cosa che va affrontata immediatamente perché se no avremo veramente le persone che non arrivano a metà del mese, non alla terza del mese.